Luca, quando sono usciti i calendari hai detto che se non vico il campionato con il Parma potrei anche smettere. Siamo avanti così, l'anno prossimo dove giochi? Era una battuta, è normale che non vincere questo campionato sarebbe un peccato veramente grande. Siamo partiti bene, la preoccupazione principale di tutti era la partenza. Siamo partiti bene e speriamo di continuare così. Io ho fatto un'analisi vedendo anche gli allenamenti, vedo che la concorrenza però spinge anche nelle partitelle tutti quanti a dare il massimo. E' anche questo forse il segreto di quest'inizio che tanto preoccupava e che invece ha portato quattro vittorie in quattro partite? Sicuramente, soprattutto là davanti c'è una grandissima competizione. Credo che se la competizione è positiva tutti si mettono con la testa giusta, credo che sia una cosa positiva. Dall'altro punto di vista c'è una difesa che in quattro partite ha preso un gol. Va annoiate lì dietro? Come no? Credo che ci sia anche un grande lavoro da parte di tutto il reparto a partire dal portiere, che forse era una cosa che non vi aspettavate. Grandissimi miglioramenti da quando è arrivato, incredibile il miglioramento che ha fatto. Soprattutto lui deve dire grazie anche al mister Fulgoni che sta facendo un lavoro strepitoso. Ma a parte la difesa, credo che ormai nel calcio sia una fase difensiva e una fase offensiva. Tutta la squadra ci sta dando una mano dietro e per adesso diciamo che subiamo poco. Quelle volte che subiamo Zomia sta facendo la paratona, quindi va bene così. State crescendo anche a livello di intensità, anche nell'arco dei 90 minuti stessi, in termini anche di intesa? Sì, io credo che stiamo crescendo anche fisicamente. Non credo ancora che siamo al top della forma. Abbiamo avuto anche qualche giocatore che è arrivato dopo. Longobardi ha avuto un infortunio per dire. Quindi credo che alla fine ancora non siamo tutti al 100%. Ma alla tua intesa anche in campo con Lucarelli, questa coppia così assordita? Diciamo che insomma le cose stanno andando per il verso giusto. Insomma giocare con Ale per me è una cosa incredibile. Insomma la vediamo per televisione, quindi è una grandissima soddisfazione. Cerco anche di, anche se ormai sono vecchietto, ho 33 anni, cerco anche di vedere un po' come si muove lui e cerco di apprendere il più possibile. Credo che si può sempre migliorare. Mi ricollego un po' alla domanda che ti ha fatto il collega all'inizio. Sono specialista delle promozioni. Ma come si vince? Cosa ci vuole per vincere un campionato di Serie D? Ci vogliono giocatori forti? Sicuramente. Credo che in tutti i campionati che si vince ci vogliono giocatori forti. Poi è normale che hanno preso anche ragazzi molto disponibili oltre che grandi giocatori. Il mister ci fa stare bene, la società non ci fa mancare niente. Credo che anche partire diciamo con queste quattro vittorie sia una spinta importante per noi a non mollare assolutamente. Quattro vittorie consecutive. C'è già chi parla di vittoria finale eccetera eccetera. Non è questo un po' il vero pericolo al di là di ogni tipo di avversario che può incontrare il Parma? Ho letto un po', ho visto. Tutti credono che il campionato sia già finito ma io invece sono convinto che saranno momenti difficili. Nell'arco di un campionato ci sta che una squadra in un certo momento abbia un momento di difficoltà. Che può essere fisica, può essere di mille cose ecco. Quindi credo che dobbiamo, come ho detto, starci con la testa. Domenica abbiamo una partitaccia. L'anno scorso ho perso tre a una mezzolara. È un campo stretto, difficile. Ora non ho visto ancora la rosa del mezzolara. Hanno cambiato, ovviamente Bazzani l'anno scorso si dava una grandissima mano in attacco. Ecco, quest'anno lo troveremo in panchina. Conoscendola sicuramente darà una scuola, una grossa carica agonistica. E quindi sarà una partita molto difficile ecco. Voglio dire una cosa, sono andato a vedere Carpi Napoli. Le squadre che si giudono, è difficile vincere le partite ecco. Non è stato un caso che noi con l'Alto Vicentino abbiamo fatto la miglior partita, diciamo, dell'inizio del campionato. Perché loro ci davano spazi, sono venuti a giocarsi alla viso aperto. Invece la troveremo sicuramente a mezzolara come ad Arsignano. Una squadra che si chiude e sarà difficile fare gol. Nei momenti difficili, ma come anche in tante altre cose, viene fuori anche l'importanza un po' dei senatori dello spogliatoio. Cioè questa è una squadra nuova, un gruppo nuovo. Ha iniziato tardi, è un po' il must di questo inizio di stagione. Però credo che tu, Lucarelli, anche lo stesso Longobardi, siete anche per un discorso di esperienza un po' quelli che non tengono in mano lo spogliatoio che magari pare brutto, però insomma anche con tanti giovani cercate di tenere tutti in riga. Da quello che vedo è comunque un lavoro abbastanza semplice, visto che tutti sono mentalizzati verso un unico obiettivo. Ma lo spogliatoio è sinceramente molto in armonia. Non c'è stato veramente bisogno di dire niente. Meno male sono tutti i ragazzi che vengono da Primavero. Hanno avuto già esperienze in Serie D, quindi insomma sanno come comportarsi dentro uno spogliatoio. E come ho detto anche all'inizio di questa avventura che ho iniziato, per loro è un'opportunità incredibile. Iniziare a giocare a Parma credo sia un'opportunità importante, soprattutto per i giovani, per fare una scalata importante. Senti, te l'aspettavi di diventare un leader così in poco tempo? Perché guardando anche le partite, oltre che gli allenamenti, ti vediamo davvero come un leader. Almeno io ti vedo come un leader, ti vedo come uno che qua c'è stato da 3-4 anni. Ma non lo so se sono leader, io cerco di dare il mio contributo. Insomma caratterialmente sono una persona che ci tiene. Particolarmente già quando perdo le partitelle, il martedio mercoledì già sto male. Vado a casa che mia moglie mi dice che hai perso la partita. Anche perché vi tocca portare la porta quando perdete le partite. Quando perdo la partita, io ci tengo particolarmente. Anche per me è un'occasione importante, a prescindere dai discorsi che il prossimo anno per me l'opportunità importante è vincere un altro campionato. Poi dopo quello che succederà il prossimo anno, in questo momento sinceramente non mi interessa. L'obiettivo di tutti è cercare di portare immediatamente il palma nel calcio professionistico. Questo è l'obiettivo principale di quest'annata. Tornando un attimino alla partita con Alto Vicentino, io personalmente da su ho visto una squadra che si imposta. Che ha imposto il proprio gioco, che ha detto qua comandiamo noi in questo ginone, comandiamo noi, vogliamo vincere a tutti i costi. Avete dato impressione di forza e concretezza, avete fatto praticamente la partita perfetta. Sei d'accordo in questo senso? Era l'Alto Vicentino l'avversario più difficile, la concorrente principale, oppure temete il ritorno di qualche altra big team? Credo che l'avversario più difficile del Parma sia il Parma stesso. Se entriamo in campo come abbiamo fatto queste quattro partite, con quella forma di agonismo, con quella voglia di aiutarsi l'uno con l'altro e continuare ad allenarsi con questa intensità, con questa voglia, credo che insomma io non dico che il campionato è già finito. Però è normale che sicuramente abbiamo delle qualità per la categoria superiore agli altri. Ecco, poi come ripeto, le squadre che vengono a giocarcela per noi diventa più facile. Certo che però fa effetto sentire dire magari, come oggi mi è capitato il direttore sportivo del Mezzolaro, speriamo che i miei ragazzi non tremino le gambe quando andremo ad affrontare il Parma. Fa un po' effetto dai? Ma fa un po' effetto, sicuramente. Mi sono trovato anche dall'altra parte della barricata, è normale. Però so che si dà sempre qualcosina in più quando si affronta queste squadre, per mettersi in mostra, com'è giusto che sia. Poi giocano in casa, sicuramente un piccolo vantaggio ce l'hanno. Mi ricordo che il campo di Mezzolaro mi sembra molto stretto, mi ricordo. Quindi sarà sicuramente una partita completamente diversa da quella con l'Alto Vicentino. Tre calciatori importanti, facevi riferimento, c'è senz'altro anche l'ultima Rivo Guazzo. Come l'hai visto e come giudichi questo nuovo innesto che può essere un valore aggiunto? Ma hanno preso un giocatore importante per questa categoria, come gli altri attaccanti che abbiamo. Sicuramente è un attaccante che, come posso dire, ha delle qualità diverse, gioca in modo diverso dagli altri attaccanti che abbiamo. Poi sono scelte della società e del mister, quindi se l'hanno preso vuol dire che per loro mancava qualcosa oppure volevano un attaccante con altre caratteristiche. Sicuramente Guazzo è un giocatore, insomma, fatto sempre la C1, era in B, quindi è sempre fatto gol. È un giocatore importantissimo per la categoria, anche per un discorso futuro, credo che sia un acquisto importante.